bella a tutti ragazzi e ragazzi siamo su un nuovissimo video di fortnite in questo video siamo con con chi siamo sabbiano raccordi o meglio chiamato tuono blu sulla playstation non so perché comunque questo mettiamo pronto e andiamo a fare i culi beh i culi magari ci proviamo ok ci vediamo quando ho trovato la partita ci vediamo direttamente in partita ciao raga ok raga abbiamo trovato la partita e adesso andiamo nel pullman tuono blu è là sopra là sotto devo dire ok siamo nel pullman benissimo vediamo dove ci possiamo buttare sto bene 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 ma non benissimo allora via andiamo va dica ale dimmi e quando arriva questa pioggia il cerchio è lontano dipende allora spieghiamolo praticamente prima di questa parte di questo video dove abbiamo fatto una partita e siamo morti per la pioggia perché non abbiamo fatto in tempo ad aggiungere il cerchio e lì vuole spiegazione di questa minchia di pioggia fai buttati non è lì ma io non ho visto cosa vediamo allora attenzione qua qua è la donazione di container benissimo lasciamo perdere la pila che sono allora vieni va non c'è un cazzo allora e mi vai a camminare dove aspetta fermo 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 ecco qua attenzione attenzione siano due siano due morto chi è che mi spazi tu fabbi vaffanculo aspetta che lo uccido io non hai armi non hai la pistola quello prendi il fucile prendi il fucile c'è il fucile non l'avevo visto con 30 di vita è restato è rimasto andiamo con 37 di vita ma dai vabbè è uno l'ho ucciso almeno ah ma qui sono i miei amici che sono ahhh qua i miei amici sono otto amici perché non stanno giocando c'è Gianluca che è online dimmi posso andare a pissare vai 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 arrivo però veloce perché se no qua già stiamo iniziando allora 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 rega domani live di fortnite mi raccomando live di fortnite ma quando domani ma a che ora non lo so dipende tu domani ci vai a scuola si ah va bene allora va bene noi la facciamo dalle 4 fino alle 8 tipo vai buttati domani live serale raga facciamo le live serale dalle 8 alle 11 due ore due ore di live si se non mi ricordo mai dovrebbe essere due ore di live bene o male no c'è se no due ti prego no lasciatemi 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 qua lasciatemi qua lasciatemi qua questo è mio questo è mio uscitemi a questo veloce 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 colpi di martellate ti ammazzo vedi qua vai via stronzo allora ferro ma che c'è niente Ale ammazzalo che le sta morendo dov'è? qua dove sei? seguimi seguimi dov'è? dietro io ne ho armi vaffanculo scappa 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 ha un fucile mattina che mi inviti ora non posso non posso non posso mattina falca troia infame minchia delle bende prendi tu queste fabbi che? minchia non c'è un cazzo aspetta levati dove aspetta? dov'è? di qua aspetta aspetta dov'è? mi è? no! dammi fabbi dammi fabbi fabbi ti ti do una grana dammi le armi ti prego fabbi non voglio morire ne ho una vedi minchia fabbi però che palle l'avevo presa io non ho niente figlio di puttana minchia fabbi ti ha detto poi da dammi le armi cazzo sparagli è morto no non è morto perchè quello si fa pulare ora vai 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 attento vai chidi no perchè a me no perchè a me vaffanculo ma ecco fabbi trovi un'arma per prima da dammi a me che io non mi provavo a sparare ah vabbè c'è il giubbotto io però quello l'avevo ammazzato ci aveva lo scudo probabilmente quella puttana ahhh ahhh questo video giocherà dalle sei dalle quattro alle otto c'è il cazzo è una live no facciamo l'ottima del battaglio e poi concludiamo vabbè un altro aspetta aspetta ok raga ehm siamo tornati allora vediamo quello dove sta fabbio raccardi tu magari fai una partita con fabbio e con mattia tu vabbè ok se mi dipende quello che mi dice organizziamo battaglie regà per allenarci così ammazziamo spazziamo ma comunque siamo cento giocatori cazzo ma questo perchè si è così da così lontano boh oh mio via vai fabbio Ale buttiamoci ora Ale nooo guarda guarda moriamo sicuro quante volte mi stanno lanciando moriamo moriamo allora 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 vai minchia guarda che puttana che ti saranno quella pure quello e va a fare il culo però ma mi racconta perché un contenere a me allora va bene dai entriamo in questa casetta bella quello c'ha l'arma io ho tutto io mi sono che cos'è sta cosa Ale Ale dove sei ho trovato armi la mitragliatrice silenziatore io l'ho trovata pure dove sei ora te lo dico vieni arrivi ti sparano qua sono vieni prenditelo già l'ho preso da cos'è beh dammelo cos'è è una trappola attento eh segui va bene Ale mi ho visto una con un fucile a pompa tu accovacciati tu e non correre piano 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 dividi dividiamoci io gli ho già con avuto tutto vaffanculo sono io mi sembrava quello chi è che spara comunque sparano lo sento lo sento di dietro non ci dobbiamo andare ma io li sento vicino il problema è vicino dove io pure ecco lì dove dove ma vaffanculo sparano sparano non mi colpiamo sparano 2 ce n'è 2 ce n'è attento phobby minchia decidi vita hai dai ho pure 0 munizioni vabbè vabbè raga scusate magari stiamo perdendo un poco ma Fabiano non si vede a giocare bene quindi poi dico pure che colpiscono alle spalle ma che devo fare allontanati allontanati Fabi minchia esci lo sapevo che Fabi si può colpire dietro questo sentivo sparire dietro e vaffanculo scor scorri ma che puoi esci dall'altra parte non si capisce vabbè però uno l'ho ucciso dai mezzo ucciso dai raga stavolta facciamo meglio Fabiano mi raccomando questo dobbiamo arrivare terzi eppure io ti posso dire che una volta sono arrivato secondo sono arrivato vediamo come dove siamo io sono settimo 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 si scusa scusa qua è arrivata a me una posta del mio video che ho fatto io quello il mio il più bello detto di sempre ma non ho capito di che cos'è se sono commenti che cazzo è che cazzo è posto in arrivo pro player do di bubello detto di sempre boh dai si parte ahhh andiamo dopo facciamo a esterrar grazie allora mi chiamo poi aspettano a noi per buttarsi vediamo il labirinto dov'è là al mio via buttiamoci al mio via buttiamoci l'abirinto è troppo bello la dobbiamo andare e io la sto andando dove andiamo aspetta non ti buttare no scusa cerca di seguire a me ti ha detto la stiamo andando no vai sì non mi sei verso il labirinto sono io verso il labirinto cerca di venire qua cerca mi hai visto sì qua dove sei? qua qua sono io vieni allora io andrei qua in questa casa tanto la cosa bella è che più non c'è nessuno ho visto un forziere io ho visto un forziere cos'è? dove siete un sacco di cose c'è un sacco di cose un'arma c'è sopra ah tu lo sei vaffanculo babbiano c'è un'arma c'è non so ma è come questa come questa che c'ho io buono un altro forziere dov'è? c'è dove è? eccolo oh non ti prendete tutte cose aspetta 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 questa a me questa a me questa a me a posto oh una tieni va quella che c'ho questa è la più forte che è 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 che ma cosa il cerchio abbiamo due minuti anche volendo però fermiamoci un po in questa casa fabbi non sei due minuti che abbiamo che poi non arriva subito alla prima botta ale questo cerchio che ti fa fare si protegge dalla piota questo da questo temporale che ti ammazza allora facciamo una cosa siccome ho trovato l'arma più bella tieni qua tieni ho trovato l'arma più bella di quelle che io ho trovato l'arma più bella e più forte di questa facendo la munizione benissimo ok adesso cominciamo ad andare tanto non c'era più niente anzi io controllarei la legna l'abbiamo ok andiamo sopra ok legna l'abbiamo no aspetta abbiamo questo eeeh questo prendiamo tu questo va tanto io ce l'ho un altro no le mie ce l'ho è uguale ce l'ho già pure verde come quello ok adesso andiamo fabbi cominciamo ad andare e fa te cammina così cammina così e però pure corri corri così a capo è messo piegato andiamo attenzione vediamo che c'è qua ah vabbè mi scarso è una pistola non c'è una pistola quale pistola non sono matura qua 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 questa casa va più veloce subito scappa corri 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 questa è la casa preferita di me è Gianluca è la casa preferita Gianluca è quella che avete visto perché c'è un sacco di roba le bende cose questa ah ma cos'è un munizio di abilità di me stiamo avendo io andiamo pure sopra c'è un fucile a pompa lo vuoi? guarda Mello guarda due minuti eh vabbè si è perché il tempo di arrivare capito vediamo si già sta arrivando non cammina corri se tu metti fecettate metti frecciate la feccia su la feccia quella prende su la vedi che c'è che la la cosa viola cammina praticamente è quella è quella viola vedi ma ci stiamo arrivando andiamo veloci dai dove vediamo eh ci stiamo arrivando un po' manca di me non manca così ma tu dove sei? io dietro di te tu sei sentito sopra la montagna io sono qua va bene ecco ti la ti metto però devi correre il dito mi sta saltando ma tu pensi che la mi ha più una volta attento poco che c'è niente è il che mi preoccupa perché a volte che ci sia qualcuno qua ah fortnite 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 ecco di qua ma non stiamo andando dritti al cerchio eh perché qua dritti al cerchio dovevi andare a sbattare al muro dobbiamo fare il giro un attimo aspetta facciamo una sosta qua minchia dove te la vede al tempo questo caso io corro fabbi corri corri fabbi corri vai 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 di qua devi andare vieni guarda guarda questa viola fabbi corri dai fabbi minchia un'altra volta dai 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 alessi ti prende noi siamo già dentro al cerchio che fa no niente perché non c'è che non ti può prendere dal cerchio fabbi è vicino è vicino il più altro che te usaccio chi mi ha preso corri fai la merda pure a me ma faffanculo andiamo al cerchio ma ci sto proprio tanto da andare vicino dovemmo farci dai corri vediamo uno di ferma fermati merda sta pioggia di merda dovevamo cominciare ad andare vaffanculo si sta fermando si sta fermando dai si è fermata avanti vaffanculo si ferma ora e manca al cerchio si è fermata sta puttana dove sei tenendo dai cinque tu quanto di quanto vi dai? quaranta io quanto sei? dai cinque dai 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 fabbi veloce oh il dito dammi un po' di bendo aspetta dov'è? qua Ale non puoi ripartire si domande anzi veloce al cerchio per andare tieni no la pistola è buttata lo so ma più di arriere andiamo dai andiamo veloce andiamo a facerci al cerchio quello che è più lontano porca troia mi chiacca e poi si va resigliendo tempo di più il cerchio perché poi non ok ok raga parlava del video per non fare messaggi ambigui perché poi so che a scuola che cosa diceva che cosa diceva che cugina guarda quanto è lungo il video voleva vedere quanto era lungo tranquilli perché si interrompe sempre la clip ah Ale quanto è lungo il cerchio il cerchio che cazzo ne sono quanto è lungo il cerchio e vedi come come lo vedo nonno che non posso misurarlo con la freccia sento dire vedi quanto è lungo poco tipo 4 km no ma neanche 2 km dalla mappa cioè nella realtà sarebbe 2 km dalla mappa sarebbe tipo 2 cm da fare andiamo a 2 secondi stai ripartendo è ripartita dai stiamo arrivando va bene dai 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 stai ripartendo andiamo siamo arrivati siamo arrivati dai dove sei tu dai andiamo allora ah da 24 persone siamo rimasti siamo rimasti 2 euro e 24 giocatori e 24 persone andiamo dai oh così va di livello 9 sono i livello 7 stiamo andando assai chi è? credo che è sperato si vai a cagare Fabiano per sbaglio andiamo qua attenzione Fabio aspeale fermiamoci facciamo attenzione Fabio fermiamoci un po' ho un'idea Fabio vieni qua non vabbè niente perché che cosa volevi fare starmi là dentro però poi ma che cazzo è problemi seri a questo gioco poi si restringe un momento si restringe e noi moriamo quindi camminiamo che è meglio ci sono delle band qua ne prendo io io pure sto morendo Ale te ne do tieni che una tempesta no vieni dai carmi vieni vieni qua non c'è ancora non c'è fra un minuto prenditi la band vediamo che è ferma perditi l'arma l'arma è tua quella è tua prenditela tu vieni qua andiamo dai perché perché volete è qua cerchio è lasciato il fucile quello bello ma perché come ho lasciato ha blagato la miseria che minchia sto facendo io parca troia papi aiutami stava controllo di inventare mi sparano aiutami rianimami attento attento accucciati 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 e rianimami veloce minchia ma ce n'hai tre figli di puttana veloce dai ok dai nascondiamoci attento fabi dov'è sono ben attento cosa sono figli di troia l'ho colpito eh ma allora tua madre è puttana fabi dietro vaffanculo guarda tutte le mie cose sono fottuti figli di puttana tu corri fabi corri difenditi c'e nemmeno di là ti sparano quanto ce n'è? non lo so non posso tirarmi vedi corri 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 non ti accucciare non ti accucciare vince che padre che porca puttana vabbè per almeno se arriviamo a 13 buono ho quattro di vita si lo vedo non ne hai bende no provo ad entrare in queste case provo ad entrare non ti seguro più vuoi entrare nelle case no quello che ce l'ho costruito vabbè entra entra metti cosa c'è metti metti perché su spari vabbè xx online ho la pioggia vabbè fammi tranquilli merda proprio se cerchi proprio di nuovo se cerchi di mandare vincere nono che poi se arrivi nono tu arriviamo nonne tutte e due perché siamo in squadra quindi va bene dai vaffanculo mi stavo vendendo il succo vabbè che dire io direi che per questo episodio è tutto noi ci vediamo al prossimo video di fortnite ci vediamo domani con la live di fortnite con il mio coutinho fabbiano e se può anche mattia wolf e manfittì per questo video è tutto lasciate like e iscrivetevi al canale di manfittì e mattia wolf e samila tamaro passate anche il canale musical di di fabbio raccardi e samila tamaro lasciate like e bella rega ciao 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 ciao